E quel passaggio lì non mi piace eh! Non mi piace quel passaggio del cavolo lì! Didè! Didè! Vedi anche lì! Perché piede? E qui ho anche due, tre... Via quando è impostata! Non, 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 non... no allora coraggioso o si o no più grinta via va bene vai tre piedi tre piedi basta dopo è contrario bisogna imparare una memoria ti piace il rischio ti piace rischiare ti piace rischiare no così basta è dopo contrario eh adesso contrario eh contrario basta così al contrario adesso yes vai vai